La musica è bellissima, dovrei dire, che sapete dall'arte, che non ruola, che ne ha rispettata, nasce questa musica che ha una mescolanza tra reti mexicani, artigiani e brasiliani. Questa è la chizoppa. Nasce quindi anche il ballo che prende il nome dalla musica stessa, in questi ultimi anni sta divulgando, si torna ovviamente in tutta Italia, in serate latine e anche in serate proprio sui cicli che è di questo ballo. Io direi, accogliamoli con un grandissimo applauso, e loro sono il corso principiati di chizoppa. Capitanati dalla maestra Rennie nel centro della scuola Chizoppa Lover. Capitanati dalla maestra Rennie nel centro della maestra Rennie nel centro della scuola Chizoppa Lover. Capitanati dalla maestra Rennie nel centro della maestra Rennie nel centro della scuola Théria. Grazie. 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 Grazie.